ciao e benvenuto in questo nuovo episodio di ephemeral oggi dobbiamo cominciare il secondo episodio della storia con naghi e io sono curiosissima di vedere come sarà la storia con lui quindi cominciamo subito si intitola dietro un sorriso chissà cosa nasconde il suo personaggio così cute il giorno seguente che faccio sono in ritardo sono solo andata al bagno nella pausa tra una lezione e l'altra ma quando sono ritornata indietro nessuno era in classe ho così improvvisamente ricordato che la lezione successiva era un corso opzionale quello che ho scelto è un corso sugli esseri umani chiamato la scienza degli umani naghi mi aveva detto che quel corso potrebbe essere tenuto il laboratorio di chimica ma il laboratorio di chimica dove è naghi ieri mi ha fatto da guida per l'intero campus ma è così grande che non riesco ancora a ricordare tutti i luoghi corro in tutta fretta fuori ma mi fermo immediatamente il corridoio si biforca in due direzioni e lanciamo una monetina quale delle due destra o sinistra la scelta è semplice ma se scelgo quella sbagliata arriverò a lezione sicuramente in ritardo se sapevo che succedeva questo sarebbe stato meglio chiedere a naghi di aspettarmi o magari di non andare al bagno e nel momento in cui non so che fare qualcuno ci finisce addosso oh ma guarda è lui che tempismo oh ti ho finalmente trovata naghi colui che mi ha preso la spalla da dietro è naghi è corso fin qui e ora è senza fiato che che è successo non ti vedevo e quindi avevo pensato che fossi andata la prima ma quando sono arrivato al laboratorio non ti ho vista da nessuna parte e quindi ho pensato che ti fossi persa ma quanto è premuro se carino ah sono contento di averti trovata quindi mi stavi cercando naghi è così senza fiato deve avermi cercato ovunque è il mio ruolo farti da supporto in questa scuola è solo il secondo giorno perciò sarei stata in ansia scusami per averti lasciata da sola la mano di naghi che mi sfiora delicatamente è molto calda e di qua andiamo a naghi grazie mille di nulla ok siamo in classe entrando nel laboratorio un volto familiare ci guarda e ci saluta con la mano ah è lui io pensavo erika oh siete arrivati meno male naghi l'hai trovata sì grazie per prima per prima non sapevo dove fossi e quindi ho chiesto a shiba di annusare il tuo odore per sapere dove fossi ma dai veramente il mio odore shiba ma puoi farlo certo comodo è avere il fiuto di un cane non sono un cane sono un lupo però mi spiace informarvi nonostante siete corsi qui di fretta che la lezione di oggi di studio in autonomia mi ignori studio in autonomia cioè l'insegnante di questo corso sta risolvendo un altro problema e non può venire risolvere un altro problema probabilmente qualche idiota ha causato qualche problema non so dove qualche problema tipo qualcosa come succhiare del sangue ad altri studenti o mangiare l'anima di altri studenti chissà quale sarà oddio nessuna delle due è bella sì ma scusa che sia l'uno l'altro è sempre una questione di mangiare gli altri no ecco appunto ma non è una cosa molto seria esatto spero che si concluda solo con un'espulsione nel peggiore dei casi la loro presenza potrebbe essere cancellata completamente se devi andare a fare qualcosa dovresti essere sicura di non essere catturata e stupido fumarsi il proprio futuro così per un capriccio ma è questo il problema a me piace questa lezione e oggi è stata addirittura cancellata è un peccato davvero ma a me piace lo studio in autonomia a te non piace molto studiare beh non ho una testa come la tua ma dai come ti capisco sentirmelo dire da te non fa che irritarmi shiba perché hai scelto scienze umane rei e natsume sono ad un corso differente no ah beh perché se sto con naghi potrei chiedergli più facilmente di scrivere i miei report che pessima ragione ma zittisciti e tu perché hai scelto il corso di scienze umane sei interessata agli esseri umani a io allora perché volevo stare insieme a naghi perché sono interessata agli esseri umani non lo so prova a dire la seconda ed è giusta wow ok perché sono interessata negli esseri umani viene la canzone ma sì visto che tu naghi ha interesse in loro e li stai studiando volevo imparare di più su di loro questo sembra più come un tuo interesse verso naghi che verso gli umani esatto anch'io l'ho percepito così cosa che carino è arrossito lui ho detto qualcosa di strano naghi sembra così scioccato ah giusto erica perché hai scelto questo corso ah beh che ovvio cambio di argomento ecco esatto l'ho pensato anch'io ma no te lo sto chiedendo sinceramente probabilmente sarà perché un giorno vorrà mangiare l'anima degli umani wow sì va hai fatto centro ma no dai non pensi che sia magnifica l'anima degli umani dicono che sia deliziosa spero di riuscire a mangiarla un giorno ma anche no grazie tu lo sai che è da prima che parli solo di mangiare alle ragazze piace mangiare no chloe ecco alla fine dopo questi discorsi non abbiamo fatto studio in autonomia anzi abbiamo continuato a parlare noi quattro insieme e poi siamo andati a mangiare almeno ah che divertente ma non eri tu quella che diceva ah mi dispiace che non si faccia lezione oggi sembra piuttosto che ti sia divertita un pasto shiba non vorrei dirmi che quell'orribile modo di parlare è una mia imitazione se è così ti cancellerò con piacere dalla faccia della terra con la magia nera chi io mai non ho mai pensato di imitarti erica ehi naghi non è così comparato con shiba che sta sorridendo con agitazione il sorriso di erica sembra un sorriso allegro alla vista di naghi che ride mi metto a ridere anch'io però è proprio divertente sono contenta di essere venuta in questa scuola erica shiba e anche naghi sono tutti molto gentili con me la nonna mi ha sempre detto che il mondo esterno è pauroso ma non è assolutamente così penso che quella fosse solo tanta preoccupazione e basta che è questo boom? wow ops uno studente improvvisamente si scontra con naghi da dietro naghi cade per l'improvviso scontro invece lo studente guarda freddamente dall'alto naghi naghi tutto ok? ahia ah si tutto ok ma dai eri lì scusami non ti avevo visto ma che tu chi ti stai scusando? ah ah con naghi? eh non l'avevo visto ma che cavolo di comportamento odioso dovresti far percepire di più la tua presenza perché altrimenti finirei per causare questi problemi ah 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 non posso che essere d'accordo ehi voi come la mia voce inizia a tremare per la rabbia per quel loro assurdo comportamento naghi mi richiama in fretta io sto bene quindi tu non dire niente ma come ci siamo scambiati queste poche parole gli studenti se ne vanno via continuando a ridere volgalmente scusami se ti ho fatta preoccupare ma davvero sto bene naghi si pulisce i pantaloni e si alza mostrandomi un sorriso gentile naghi stai bene? sto bene grazie ma ma perché non gli hai detto nulla? è ovvio che era colpa loro già sarebbe stato meglio ucciderli ma come puoi dire una cosa del genere sorridendo? io sto bene è sempre la solita cosa la solita cosa? essendo un uomo invisibile appartengo ad una classe inferiore perciò succedono spesso cose del genere se mi arrabbio e me la prendo ogni volta che succede questo per me non sarà altro che un demerito la classe ma l'insegnante mi ha detto che in questa scuola la discriminazione è proibita no? ah anche il professore responsabile mi aveva sottolineato la stessa cosa precedentemente beh ufficialmente beh ufficialmente cioè? anche a te è successo la stessa cosa no? il primo giorno ti avevano insultata e ti avevano guardata a storta solo perché tu sei una zombie ecco in questa scuola la discriminazione delle classi fatta pubblicamente è proibita ma che il più forte sovrasti il più debole ecco questa è la regola di questo mondo cose così accadono sempre quando il professore non è presente è qualcosa di simile a cosa tua anche la cancellazione della lezione di oggi di scienze umane cose più orribili accadono dove non batte il sole ma eh tranquilla non lascerò che nessuno ti faccia niente Chloe sei la mia preziosa amica ti proteggerò beh ti ringrazio meno male che lei siamo simpatiche grazie alla spiegazione di Erika ho un po' compreso come funzionano le classi ma anche se così fosse non penserei mai che non ci si possa far nulla con gli atti di violenza verso Naghi ehi quei due non sono gli stessi idioti che ti hanno spinto anche l'altra volta sono ancora gelosi del fatto che tu li abbia battuti con voti migliori allo scorso esame che cavolata oggi non mi hanno fatto nulla da mettere a rischio la mia vita perciò davvero sto bene grazie per avermi difeso Chloe Naghi piuttosto se devono fare delle regole che almeno le facessero più severe se le avessero fatte più severe ora quegli idioti non oserebbero certo farti queste cose però grazie alla proibizione della discriminazione io posso studiare qui anche se subisco dei dispetti sono grato nonostante tutto a questa regola la regola della non discriminazione delle classi è stata fatta dall'attuale preside no? il preside è di una classe inferiore quindi credo che l'abbia fatta perché sa come si sentono quelli delle classi inferiore oh giusto anche il preside è un uomo invisibile no? sì fantastico sebbene sia in una classe inferiore posizione data dal suo essere uomo invisibile è riuscito ad arrivare ad essere preside solo con le sue abilità e capacità anche io voglio diventare un uomo invisibile così eccezionale come il preside mi devo impegnare ma il preside esiste davvero sembra quasi una farsa cosa? nessuno ha mai visto il preside in persona è certo invisibile il nostro professore responsabile ci ha detto che lui è stato qui per più di cento anni ma non ha mai visto il preside cosa? anche se è un uomo invisibile è abbastanza misterioso il fatto che nessuno l'abbia mai visto se non è mai stato visto da nessuno mi fa chiedere effettivamente se esiste davvero perché lui non risponda improvvisamente il volto di Nagi si oscura Nagi? sta guardando un punto fisso e osservandolo sembra che i suoi occhi abbiano perso la loro vitalità rabbrividisco al vedere Nagi per la prima volta con quell'espressione oh, a proposito per la prossima lezione avevamo un report da fare, vero? Shiba, lo hai fatto? cosa? davvero? no che non l'ho fatto eh eh eh, lo pensavo l'espressione depressa di Nagi sparisce e il suo solito sorriso riappare eh? chloe, che succede? ah, no, niente nulla pensavo al suo improvviso cambiamento ma qualcosa mi ha detto che non dovevo andare più a fondo della questione gli sorrido come se nulla fosse senza chiedergli nulla ed è finito così questo secondo episodio ok, mi sembra di capire che Nagi non lo so qualcosa la nasconde sotto sotto nel prossimo episodio nel dopo scuola Nagi mi aiuta a completare il compito quando sommarizzano la vita degli zombie mmm, chissà cosa accadrà non vedo l'ora di vederlo spero quindi che questo episodio vi sia piaciuto fatemelo sapere come al solito giù nei commenti se non siete iscritti vi ricordo di farlo così non vi perderete i prossimi video noi ci vediamo in un prossimo gioco ciao